Ciao a tutti ragazzi, sono Alien e questa è una prima occhiata alla nuova incursione disponibile nell'aggiornamento 1.2 di The Division, cielo terzo. Come tutti sappiamo, l'aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme è arrivato proprio ieri e tra le tante novità introdotte c'è proprio la nuova incursione. Non è una guida strategica questa attenzione, ma è solo una prima occhiata e un mostrarvi come siamo riusciti a terminarla, conscio del fatto che non c'è ancora una chiara strategia e che non appena ci sarà, beh, ci farò un video preciso a riguardo come di consueto. Prima cosa, la nuova incursione ha gli stessi requisiti della prima, dunque equipaggiamento di punteggio 160 richiesto per la difficile e 180 per la molto difficile. Riguardo la molto difficile non è disponibile questa settimana, lo ricordo, lo sarà a partire dalla prossima. Armi consigliate, fucili di precisione importantissimi, M1A e M44 vanno benissimo, se non avete nessuno di questi due allora vi consiglio di acquistare l'Historian direttamente dalla base operativa. E poi un bel mitra come di consueto, meglio un AOG considerato che la mappa è abbastanza aperta e ci vuole un po' più digittata rispetto a Falcon Lost. Equipaggiamenti consigliati, almeno uno con un set sentinella con i quattro pezzi attivi, set bilanciato, vero, ma ancora utile, specie qui. Possibilmente uno con un set tattico quattro pezzi, beh, il resto a scelta. Per quanto riguarda le abilità e i talenti, sicuramente tutti devono piazzarsi l'abilità speciale, la super rete di sopravvivenza sarà fondamentale più di tutte le altre. Per le abilità, almeno tre su quattro devono necessariamente spararsi l'abilità pronto soccorso con mod overdose. E' importante, sparate sempre la piazza verde a terra in modo tale da curare tutti quelli vicino a voi. E ricordatevi di uscire e rientrare dall'area verde così da beccarvi più salute. A meno due su tre devono avere la torretta con mod fulminatore. Sarà essenziale per farci guadagnare tempo contro gli assalti che subiremo, specie da quelli con i fucili a pompa. Uno nel gruppo poi con impulso con mod scanner tattico, fondamentale. Uno nel gruppo poi è necessario che si porti dietro lo scudo balistico con mod accumulatore cinetico. Aiuterà in una certa fase di gioco, abilità che poi potrà cambiare dopo quella fase magari per lasciare spazio ad un'altra torretta fulminatore. Per i talenti, ammetto che non ho ancora elaborato qualcosa di più complesso, ma direi che adrenalina, cure critiche e medico da campo siano quasi un must per tutti. I torrettai, se così possiamo chiamarli, possono scegliere di applicare strategie della paura che offre il 30% di possibilità di stordire tutti i nemici nell'area dopo averne colpito uno entro dieci metri. Gli altri possono usare magari in movimento, visto che di nemici ne ammazzeremo a raffica e spesso senza usare le coperture. Va bene, cominciamo. La prima parte in realtà l'abbiamo già vista nello stream di Massive sulla 1.2, ma ricapitoliamo. Ci troveremo davanti a delle ondate di Rikers che dovremo naturalmente abbattere. Facciamo semplicemente attenzione ad eliminare i cecchini, possibilmente. Li troveremo in fondo alla mappa. Attenzione agli assaltatori che occasionalmente ci verranno a rompere le scatole con i loro fucili a pompa. Insomma, lo scopo di questa fase è quello di eliminare il portatore degli esplosivi. Ce ne saranno due, in pratica. Ce ne accorgiamo dall'indicatore arancione sulla loro testa. Eliminato il portatore, dovremo raccogliere gli esplosivi e piazzarli sul container che dovremo far saltare, appunto, in due round. Superata questa fase, potremo avanzare e rifornirci nella casa che ci darà eventuali medikid già utilizzati, granate e proiettili, naturalmente. Avremo quindi raggiunto il checkpoint. Significa che, quando moriamo, d'ora in avanti, ripartiremo da qui. Entriamo nel vivo dell'incursione. La prima cosa che ci troveremo ad affrontare saranno due grossi Rikers. I grassoni, no? Li conosciamo bene a furia di averli uccisi a Lexington. Ne troveremo uno sulla destra e uno verso il centro della piazza. È qui che il set Sentinella diventa utile, perché chi è provvisto del set dovrebbe cercare di colpire in testa, con il proprio cecchino, appunto, gli stessi Rikers, in modo da applicare il marchio e permettere una più facile eliminazione del nemico. I due grassoni vanno eliminati per primi. Ovvero, è possibile, consiglierei di uccidere i cecchini che troviamo sul fondo della mappa, e poi fare pulizia dei nemici più o meno al centro della piazza. Bisognerà essere comunque veloci, perché più tempo aspetteremo, più nemici continueranno ad arrivare. Lo scopo è quello di arrivare ad attivare il portatile, segnato con un punto esclamativo, al centro della piazza. Suggerisco che questo tipo di lavoro lo faccia quello che nel gruppo ha la robustezza migliore, ovvero, ricordo, combinazione di salute e corazza, nuova statistica. Questo agente potrà scegliere se attivare la sua abilità speciale, rete di sopravvivenza, e correre al centro per attivare il portatile, oppure semplicemente farsi scortare. Occhio ai colpi provenienti dal grosso veivolo in fondo. In tutto questo, e l'avrete già visto, continueranno a pioverci addosso dei razzi, quindi, chiaramente, le capriore saranno nostre amiche. Una volta interagito con il portatile, dovremo inserire i fusibili, rappresentati dal segno di una mano. Troveremo una scatola a sinistra e una a destra della mappa. Dicevo, dovremo inserire queste scatole negli appositi armadi, situati proprio al centro della piazza. A questo punto, la nostra strategia è stata quella di far attivare la super a quello più resistente, mentre l'agente con lo scudo mobile cercava di attirare i colpi su di sé, agendo come distrazione. Chiaramente, una volta raccolta la scatola dei fusibili, saremo lentissimi e potremo usare solo la nostra arma di supporto. Ecco perché la protezione è importante. Se riusciremo a piazzare la scatola in un colpo solo, bene, altrimenti lasciarla a terra e avanzare poco a poco non è una cattiva idea. Magari se nel contempo stiamo per morire. Attenzione ai soliti assaltatori che si presenteranno con i loro fucili a pompa e che chiaramente ci daranno molto fastidio. Arrivano a pacchi. Spararsi un'altra super in caso non è una cattiva idea. Meglio usarla e magari sprecarla, tra virgolette, piuttosto che morire per dire, eh, se avessi usato la super. Vabbè, mi conoscete, no? Una volta piazzata la seconda scatola di fusibili, dovremo tornare al portatile per disattivare le difese dell'elicottero. Stessa cosa quindi. Eventualmente si può decidere di correre diretti verso il portatile, magari sparandosi l'ennesima super, e dunque disattivare le difese. Fatto questo, il mio consiglio è quello di tornare nell'aria in fondo alla mappa, più o meno dove siamo arrivati, da dove siamo partiti, e magari rifornirsi di munizioni se si può, visto che potrebbero cominciare a scarseggiare. A questo punto la situazione si scalderà ulteriormente perché compariranno due nuovi Rikers Elite Grassoni più il leader, che in questo caso avrà tanto di scudo. Stessa tattica, il sentinella sarà molto importante, i suoi marchi permetteranno l'uccisione più comoda dei grassoni che vanno fatti fuori quanto prima, perché non si fermeranno davanti a niente e nessuno. Posso consigliare l'utilizzo dei proiettili esplosivi nel caso, o di bibite che nessuno usa mai, no? Beh, ci sono, usiamole, no? E quando si comincia a morire del tutto, quindi quando la rianimazione porta via molto più tempo, suggerisco di mandare solo uno a rianimare, perché se si sta tutti vicini in quei momenti, quasi sicuramente ci pioveranno addosso i razzi che renderanno di fatto impossibile la rianimazione completa del nostro compagno caduto. Quando i nemici si avvicinano e non siamo più in grado di tenerli, ricordiamoci di usare le torrette con modo fulminatore, quello che possiamo fare è cambiare completamente zona avviandoci magari verso quella dell'eveivolo dal quale non pioveranno più colpi di mitragliatrice verso di noi. Giriamo sempre e cerchiamo di distanziarci dai nemici, nel frattempo quello che aveva lo scudo portatile magari si è piazzato anche lui in una bella torretta. Il boss dobbiamo eliminarlo quanto prima possibilmente, appena uno spawn infinito degli add, ovvero quei nemici che non sono il boss. E anche qui, santo marchio della sentinella, usare granate shock non è mai una scienza, scelta sbagliata poi. Se non saremo abbastanza veloci, falliremo per il semplice fatto che i medikit a nostra disposizione potrebbero esaurirsi. Se possiamo, spariamoci super per sopravvivere quei secondi preziosi per infliggere danni tutti insieme al boss. Quando avremo eliminato lo stesso boss, non dovremo fare altro che uccidere tutti gli add rimanenti, tanto non ne arriveranno di altri. E così terminiamo l'incursione. Ora, come detto, questa non è una guida strategica, è più un overview con dei concetti base sulle meccaniche. E' impegnativa? Beh, se non si è coordinati e non si sa quello che si sta facendo, probabilmente sì. Una volta acquisito il metodo giusto e familiarizzato con i nemici, vi sembrerà tutto più semplice, parola. Va bene, ma come drop? Le ricompense settimanali? Una sciarpa antisommossa, evidentemente data la prima volta al completamento dell'incursione, un pezzo set a 214 più un potenziale alta gamma a 204, un altro pezzo set, ho poi droppato una fondina a marchio del predatore a 214 e zaino autorevolezza del tattico a 214, più altri alta gamma a 204. Come si può intuire, i drop delle modalità difficili sono di certo migliorati. Va bene, amici miei, appena possibile cercherò di mettere a punto una vera strategia, così sperando che possa aiutarvi più di così. Io nel frattempo vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, come al solito, del resto, e soprattutto vi ringrazio per il supporto che mi avete dimostrato ieri pomeriggio, sia nella live con EveryEye, sia quella delle 18 sul canale ufficiale di Ubisoft, dove ho avuto il piacere di giocare all'incursione finendola in tempi relativamente brevi, soprattutto merito dei miei compagni di gioco rispetto a qualche ora prima, appunto, visto che questo video è basato sulla prima run in assoluto fatta alle 13 circa e non ci abbiamo di certo messo 20 minuti. Love and peace, agenti! Svaiuto 21, bravo limo limo, limo 5 9